Qui vi presentiamo le 5 migliori bicchieri Gin e Tonec. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Luminac Fiesta Combinados. È la versione classica del set Carnival combinato sulla base del bicchiere. Infatti, non è ancora colorata e cristallina. A parte questo, tutte le funzioni del set rimangono invariate. In realtà, la confezione include, oltre a 4 bicchieri di vetro, 2 dispositivi metallici sensibili, vale a dire il cucchiaio e la tazza calibratrice. Estremamente resistenti, i bicchieri possono essere utilizzati in qualsiasi momento conviviale, con la famiglia o gli amici. Passando al numero 4. Luminac Fiesta Combinados. La collezione mantiene ciò che il suo nome assicura una grande festa piena di allegria. È un kit che fornisce tutto ciò di cui hai bisogno per preparare invitanti cocktail a base di vino. In effetti, il piano prevede 4 bicchieri, oltre a un cucchiaio e una coppa graduata. Identificati da uno stile particolarmente raffinato, i bicchieri sono realizzati in vetro estremamente resistente, con uno stelo dai colori vivaci. I dispositivi, invece, sono reali per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Bar Chiociola Drinkstuff set da 6. Questa è una collezione di 6 bicchieri a forma di palloncino, con una capacità generosa di 645 ml ciascuno. Usano uno dei modi più genuini per servire un gin così come un ricostituente o un cocktail a base di gin come Tom Collins, Gin Fizz o Levanda Alcolica Singapore Slim. Sono prodotti in vetro sodico calcico e possono essere comodamente lavati in lavastoviglie e sono quindi ideali per l'uso quotidiano. Almostat è top of our list at number 2. Darting Deton Crystal Bicchiare da Vino e Gin Tonic. Si tratta di un set di picchiari in cristallo a forma di sfera da bovling, creato per offrire vino bianco oltre che vino ristaurativo. La loro forma rimanda direttamente alla tradizione spagnola, per permettervi di godervi la bevanda fino all'ultima goccia. Hanno la capacità ideale per adattarsi ad una abbondante cascata di ghiaccio e anche per guarnire la bevanda miscelata con i componenti preferiti. La capacità è di 65 cm e anche l'altezza è di 250. E infine il numero 1 della nostra lista. Bar Special Spanish Gin Tonic Classes 23,5 Ots barra 696 ml 72. Con questi eleganti bicchieri è possibile offrire un Gin Tonic tradizionale con un tocco distinto che rispecchia la più germina tradizione spagnola. La tazza a forma di minuscola sfera da bovling ha una dimensione generosa e quindi consente di esaltare tutti i tipi di bevande alcoliche con molto ghiaccio, insieme ai principi attivi, per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.